La giornata della terra è stata celebrata per la prima volta nel 1970 grazie agli sforzi del senatore statunitense Nelson che voleva sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi ambientali. L'evento ha visto la partecipazione di circa 20 milioni di persone soltanto negli Stati Uniti, dando vita così a una nuova coscienza ecologica. Negli anni successivi è diventato un appuntamento globale celebrato in più di 193 paesi e coordinato a livello mondiale dal Network Heart Day che si impegna a mobilitare la popolazione verso la sostenibilità ambientale. Le attività possono includere la piantumazione di alberi, la pulizia delle spiagge e dei parchi, la raccolta di fondi per iniziative ecologiche e campagne educative sul riciclo e sulla conservazione delle risorse. La giornata della terra è anche però un momento per riflettere sull'impatto delle nostre azioni quotidiane sull'ambiente e per impegnarsi a fare scelte più sostenibili come ridurre l'uso della plastica, minimizzare gli sprechi alimentari e supportare fonti di energia rinnovabile.